Ciao ragazzi, oggi vi parlo di quale Model 3 scegliere, perché tanti me l'avete chiesto e quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulle varie configurazioni e quale ha senso per chi. Come ho già detto prima, molti di voi mi hanno chiesto quale configurazione secondo me va bene per loro. Purtroppo io non sono loro, come sapete io ho scelto la Tesla Model 3 Long Range e quindi qui vi guido sul perché io ho scelto questa e perché potrebbe essere più interessante la Standard Range Plus piuttosto che la Long Range o la Performance per alcuni di voi. Quindi senza ulteriori indugi andiamo a cercare di capire quali sono le principali differenze tra le tre configurazioni che Tesla in questo momento fornisce per chi vuole fare un ordine appunto di Tesla Model 3. La prima differenza tra le tre configurazioni che ricordiamo sono Standard Range Plus, Long Range e Performance è il prezzo. Noi stiamo parlando di 49.500€ per la Standard Range Plus, 57.900€ circa per la Long Range e 64.500€ circa per la Performance. Questi sono prezzi senza incentivo. Questa cosa vuol dire che per la configurazione Standard Range Plus e Long Range siete in grado di ottenere ulteriori 4.000€ oppure 6.000€ di incentivi statali, dipende se riuscite a rottamare 1.4€ o inferiore come macchina. Mentre per quanto riguarda la Performance purtroppo siccome il prezzo è superiore ai 61.000€ dati di soglia dalla legge per ottenere gli incentivi non riuscite ad accedere ad alcun tipo di incentivo. Se siete in Lombardia oppure se siete in Veneto avete ulteriori incentivi regionali. Ci sono anche altre regioni che si stanno muovendo in questo momento quindi vi consiglio per la vostra regione appunto di andarvi a informare su quale tipologie di incentivi. Per dirvela tutta se siete in Lombardia in questo momento e comprate una Standard Range Plus ve la portate a casa per meno di 40.000€. Quindi è un prezzo decisamente buono soprattutto se consideriamo le varie altre auto di altre case automobilistiche che ci sono su quella fascia di prezzo. Oltre al prezzo chiaramente troviamo anche una differenza sulle varie prestazioni. Chiaramente la Performance è quella che si comporta meglio da 0 a 100. Infatti stiamo parlando di circa 3,4 secondi da 0 a 100 per la Performance, 4,6 per la Long Range, mentre 5,6 solo per la Standard Range Plus che comunque è un'accelerazione di ottimo rispetto. C'è anche da dire che questi sono i numeri dichiarati da Tesla sul sito tesla.com li potete trovare pubblicamente disponibili. Però è anche vero che grazie all'ultimo aggiornamento e anche un aggiornamento di aprile i valori di 0 a 100 non sono stati rimodificati e sono stati abbassati ulteriormente. Infatti anche se la Long Range in questo momento viene riportata sul sito Tesla come 0 a 100 in 4,6 io l'ho misurato più vicino a 4,2. Anche la velocità chiaramente è un fattore indicativo seppure abbastanza inutile nel senso che difficilmente ci arriverete perché non abitiamo in Germania. Però per fare un video completo vi dico che la Standard Range Plus arriva al massimo limitata a software a 225 km orari. Cosa diversa invece per la Long Range che arriva a 2,34 la Performance invece a 2,60 circa. C'è anche da dire che la Performance, e qua abbiamo anche già una delle differenze che si possono vedere sulle esteriori dei tre modelli, per arrivare a 2,60 deve avere uno spoiler attaccato e montato dietro che chiaramente vi viene dato in dotazione se qualora compraste la Performance. Visto che ci siamo parliamo anche degli esteriori e poi magari ritorniamo un attimo sulle Performance. Tutte e tre le configurazioni sono praticamente identiche. Cosa vuol dire? Che voi, vista da fuori, soprattutto di lato, non vi accorgete se è una Performance, una Long Range o una Standard Range Plus. L'unica che riusciamo ad identificare chiaramente è il modello Performance. Perché? Perché il modello Performance, a differenza della Standard Range o della Long Range, monta cerchi da 20 e soprattutto monta delle pinze rosse Tesla Performance. Cosa intendo? Intendo delle pinze frenanti che sono apposta calibrate per farvi arrivare allo stop in sicurezza anche quando andate in pista, per esempio. Se portate invece la mia, che è una Long Range, in pista, potreste avere un surriscaldamento dei freni e quindi potreste avere un impianto frenante non proprio calibrato appunto per andare in pista. Poi esteriormente, dicevamo, le macchine sono completamente identiche. L'unica differenza è, ripeto, lo spoiler che può essere montato opzionalmente sulla Performance, che dà un ulteriore carico dinamico, diciamo abbassa il culo della macchina, quindi vi permette di arrivare anche a 260 km per la Performance. E poi, da dietro, riuscite a vedere, identificare la Standard Range Plus, Long Range o Performance dalle varie scritte cromate che vengono riportate appunto sul culo della macchina. Visto che abbiamo parlato di esteriori, parliamo anche di interni. Le tre macchine, cioè i tre modelli, sono praticamente identici tra di loro. L'unica differenza sta tra la Porta Standard Range Plus che ha un interno Partial Premium. Cosa si intende per Partial Premium? Anche qui Tesla cambia idea ogni 2-3 mesi, nel senso che vengono fatti aggiornamenti software, quindi cambiano alcune cose. Ma in questo momento, praticamente, l'unica cosa che cambia effettivamente è che quando voi andate a ritirare la macchina sulla Standard Range Plus non vi vengono dati i tappetini in tessuto, diciamo, dove appoggiate i piedi. E soprattutto l'impianto audio è leggermente inferiore qualitativamente alla Long Range o alla Performance, che riportano entrambi gli esistimenti Premium, Full Premium. Parliamo invece delle cose più importanti, cioè i consumi, l'efficienza di questi tre modelli. Quello tra tutti più efficiente potrebbe sembrare un po' strano, ma è proprio lo Standard Range Plus. Dico questo perché? Perché banalmente la Standard Range Plus pesa circa 200 kg in meno della mia Long Range e questi kg in meno vanno effettivamente a sentirsi, si sentono quando si è in viaggio. E quindi questa si ripercuote ineluttabilmente, per citare Thanos, sul fatto che viene spesa meno energia per muovere la macchina, soprattutto su un ciclo misto dove magari si deve fermare, si deve ripartire, quindi magari io intendo uso cittadino. E quindi passiamo all'efficienza. L'efficienza della Standard Range Plus su un uso abbastanza misto è di 147 Wh per la Long Range e circa 165 per la Performance. Quindi capite che le tre configurazioni, oltre a crescere di prezzo, crescono anche di inefficienza. Vi riporto dei dati WLTP che sono il ciclo misto che viene utilizzato per l'omologazione appunto perché vi dice quanti chilometri potreste aspettarvi dall'auto e sono anche i valori che ritrovate dentro il sito tesla.com, però effettivamente non sono molto realistici. Quindi io ve li riporto per chiarezza di informazione, però poi parliamo anche di quelli effettivi. Il ciclo WLTP prevede per la Standard Range Plus 409 km di autonomia, 5,60 per la Long Range e 5,30 per la Performance. Come dicevamo non sono effettivi, nel senso che difficilmente ci arrivate in uso reale, e quindi vi do anche un calcolo che ho fatto io. Standard Range Plus in uso misto secondo me arriva sui 3,50 km. Forse anche 3,60, ma diciamo che è meglio tenersi un po' conservativi. Per quanto riguarda la Long Range invece 4,80 li fate in maniera semplice se non tirate la macchina. 4,60 mi aspetto per quanto riguarda invece la Performance. In uso autostradale anche qui per quanto riguarda la mia Long Range siete in grado di fare 3,80 km. Per la Standard Range Plus invece in autostrada stesso sistema 235 km secondo me si riescono a fare e più o meno 3,70, 3,60 anche per la Performance diciamo. La batteria è l'ultimo componente di differenza tra le varie vetture. La Long Range e la Performance montano una batteria da 75 kWh, mentre per quanto riguarda la Standard Range Plus monta una batteria da circa 50 kWh. Però questa minore capacità, che chiaramente è anche riflettuta dal fatto che costa meno la macchina, viene compensata dal fatto che come dicevamo prima la macchina è più efficiente. Perché è più efficiente? Sia per il motivo di peso e sia perché la motorizzazione prevede per la Standard Range Plus un solo motore montato al posteriore. Il motore posteriore della Model 3, sia che sia Long Range, Performance o Standard Range Plus, è sincrono a magneti permanenti. Quindi una roba molto tech, molto nerd, che magari a voi non vi frega niente, però vi fa capire, o meglio vi passo adesso il messaggio, che il motore posteriore è quello più efficiente tra i due montati anche sulla Performance e Long Range. Di contro però la Standard Range Plus, avendo solo un motore, potrebbe essere un problema per chi magari abita in montagna, che magari è abituato ad avere delle auto 4 ruote motrici e quindi un attrazione integrale. Avere semplicemente un asse che traina potrebbe effettivamente far storcere il naso a qualcuno che è abituato a avere 4 ruote motrici. Quindi se siete montagnoli, montanari scusate, o comunque se avete per il vostro caso d'uso la necessità di avere 4 ruote motrici dovete necessariamente escludere la Standard Range. Veniamo noi, finito il riepilogo dove mi sono segnato su questo bellissimo foglio le informazioni, veniamo noi e vi parlo un po' di esperienza personale. Per chi consiglio la Long Range? Molta gente magari era partita con la Standard Range Plus e poi ha deciso di prendere la Long Range, anche dopo magari aver parlato con me, perché io ho preso la Long Range? Non sono mai stato un guidatore assiduo, nel senso che anche il fatto che noi siamo andati a Caponord quest'estate non ci sarei mai andato con una macchina diversa, però mi sono reso conto che guidare con una Model 3 è una cosa completamente diversa. E' estremamente più rilassante, il viaggio passa via molto meglio e quindi mi sono reso conto fin da subito che avrei voluto un'auto che mi avrebbe permesso di raggiungere anche posti, quindi per esempio Caponord, in maniera più agevole. Quindi scegliere tra Standard Range Plus e Long Range si tratta di fatto di un fattore voglio o meno la trazione integrale, o meglio ne ho bisogno oppure no, oppure fattore monetario. Se avete soldi da spendere per la Long Range e avete intenzione di fare chilometri e vi garantisco che una volta che montate sulla Model 3 comincia magari un po' a tornare la voglia di guidare, allora secondo me la Long Range è la cosa migliore. Voi dite vabbè a questo punto se ho i soldi posso anche prendermi la Performance, perché dico che la Performance secondo me per chi la usa tutti i giorni non ha un grande senso. Per semplice motivo che hai meno autonomia, perché non puoi montare i cerchi da 18 con gli aero, perché per chi non lo sapesse gli aero sono quei copricerchi che danno circa un 5% di autonomia in più, quindi fa meno chilometri, soprattutto ha una spalla leggermente più ribassata perché monta dei cerchi da 20 e quindi montando dei cerchi da 20 è leggermente più rigida. Quando prendete le buche le sentite in maniera più consistente rispetto a una Long Range. Se voi volete comprare una macchina per andare in pista, Performance, non ce n'è per nessuno. Se volete una macchina da usare tutti i giorni e pensate anche di fare parecchi chilometri, secondo me la Long Range la vince su tutta. Volete fare ma anche un 100-120 km al giorno, non di più, ma anche 150 km al giorno, senza grosse pretese, quindi non volete fare tante tratte molto lunghe, secondo me la Standard Range Plus vince a mani basse. E quindi ragazzi, io spero di avervi fatto chiarezza, come avete intuito c'è, ci sono queste tre tipologie di auto, se non avete grosse pretese riguardo alla trazione potete anche scegliere in base a vostro portafogli e in base ai chilometri soprattutto che fate ogni giorno. Tutte e tre le configurazioni vanno a soddisfare sicuramente i bisogni odierni del 99,9% delle persone, che facendo anche, mi pare per media Istat, 50 km di media al giorno, ragazzi con 50 km di media al giorno potete comprarvi tranquillamente un tre ciclo elettrico, insomma avete capito. Quindi sia con la Standard che con la Long e con la Performance ci arrivate tranquilli, senza nessun problema. Se volete fare quel chilometro in più, avete capito, Long Range, se invece volete andare in pista, volete divertirvi veramente tanto, allora vi consiglio a mani basse la Performance. E detto questo io ragazzi vi saluto anche perché sicuramente il video è diventato lunghissimo, spero che non sia stato troppo un pippone e soprattutto spero di non essermi dimenticato qualche dato tecnico che poteva esservi utile magari per il vostro processo decisionale. Come al solito se il video vi è piaciuto mi piace, mi raccomando Telegram, Instagram e qui con la campanella, o meglio qui su YouTube con la campanella e ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao!